ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario ppv di cane cc cardiocare informazioni commerciali titolare nestle purina petcare italia spa concessionario nestle purina petcare italia spa confezioni ppv di cane cc cardiocare 12.000 g ppv di cane cc cardiocare 3.000 g formulazione riso proteina di pollo disidratata mais orzo farina di proteine di mais trigliceridi a media catena 5 per cento polpa di barbabietola disidratata proteina di salmone disidratata cellulosa olio di pesce sostanze minerali grassi animali interior aromatizzanti additivi nutrizionali vita 3.000 ui barra chilogrammi vito di 63 970 ui barra chilogrammi vite 1040 ui barra chilogrammi sul fatto di ferro ii monoidrato che 150 mg barra chilogrammi iodato di calcio anidroi 2,3 mg barra chilogrammi sul fatto di rame ii pentahidrato c16 mg barra chilogrammi sul fatto manganoso monoidrato mn 56 mg barra chilogrammi sul fatto di zinco monoidrato z n 140 g barra chilogrammi selenito di sodio se 0 e 16 mg barra chilogrammi componenti analitici proteina 26,5 per cento grassi grezzi 15,0 per cento ceneri grezze 7,5 per cento fibra grezza 4,5 per cento taurina 0,2 per cento epa più da 0,7 per cento sodio 0 e 18 per cento magnesio 0 e 15 per cento potassio 0,6 per cento indicazioni alimento dietetico completo per cani adulti per il supporto alla funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica grazie ad un ridotto tenore di sodio posologia si raccomanda di impiegare cardiocare 5 tm inizialmente per un periodo di sei mesi lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita per i cani oltre 70 chilogrammi di peso somministrare ulteriori 30 g di alimento secco per ogni 5 chilogrammi di peso corporeo in pia razione giornaliera raccomandata per cani adulti peso del cane 2,5 chilogrammi razione giornaliera 70 g peso del cane 5 chilogrammi razione giornaliera 100 g peso del cane 10 chilogrammi razione giornaliera 175 g peso del cane 15 chilogrammi razione giornaliera 230 g peso del cane 25 chilogrammi razione giornaliera 325 g peso del cane 35 chilogrammi razione giornaliera 410 g peso del cane 45 kg razione giornaliera 485 g peso del cane 70 kg razione giornaliera 650 g fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato grazie a tutti